ciao amici del tempo ciao a tutti sto guardando su youtube dei video interessanti e in particolare c'è uno veramente che mi ha incuriosito la flessione magica è una flessione strana da fare con un bastone senza un appoggio ci voglio provare seguitevi ciao ragazzi oggi è il secondo giorno secondo tentativo della magica flessione ci provo seguite ciao amici del tempo ciao dopo un primo tentativo che non è andato tanto bene al secondo tentativo sono riuscito a fare addirittura tre piegamenti con la mitica flessione magica ho guardato su youtube quelli veramente bravi preparati poi dipende dall'allenamento riescono a farne 5 6 7 sono già tante io ne ho fatte tre ma nessuno si allena un po di più prova un po di più riesce a farne secondo me anche molti di più 5 6 7 ci si può arrivare comunque è molto difficile farla provateci a casa ciao dal tempio massimo ragazzi iscrivetevi al mio canale lasciate un like e lasciate anche un commento ciao dal tempio